Aldo, oggi 26 gennaio 2018, ma va come mi guarda questo struzzo, ma va come mi osserva, che bello il collo, si abbassa a provare un senso di timidezza, poi mi guarda ancora, sono all'allevamento di struzzo al paese San Omobono Terme, in Vallimania, li ho di fronte a me, gli struzzi, uno più bello dell'altro, non saprei riconoscere maschio o femmina, questa particolarità, solo che ho letto che un uovo di struzzo è molto grande, è l'unico uovo che ha un senso artistico, l'ho letto su internet, è un uovo di struzzo, può equivalere a 10-15 uova di gallina come peso, e che bello, va come mi osserva questo struzzo, sono qua nel parco naturale di San Omobono Terme, in Vallimania, esattamente la zona rotta in Magna, dove ero stato quest'estate al Ponte Gà Prospero, in fondo di qua il Ponte Gà Prospero, guardate l'inverno, ha una sua tematica anche questa stagione particolare sua, e vi faccio notare ancora di nuovo gli struzzi, mi piacciono, ma va questo, sono avvicinato, ho abbassato il collo, come senso di timidezza, per me è una femminuccia questa qui, vorrei proprio comprare un suo uovo, adesso vado in cerca del responsabile, che bello, a questo, il maschio si notta, e ha la testa alta, pronto a fare la guardia, che bello questo qua, il museo, mi avvicino ancora di più, ciao, strozzo, sembra che mi riconosca dalla voce, qualcosa che applaudisce in se stesso la contentezza di vedermi. Ecco, di nuovo vi faccio vedere il parco, là alla casa del contadino, vorrei comprare oggi un uovo per le mie forme artistiche, che ho fatto i quadri attualmente, che io all'interno di questo uovo, vedo due figure umane in embrione, poi di sopra là ci sono delle pecore, capre, e mi trovo in Vallimagna, vi saluto, saluta, ciao, struzzo, che occhio vivo hai, pieno di energia, pieno di coraggio per osservare la persona sconosciuta, il collo e il corpo dello struzzo, questo animale, sembra che corrono molto in fretta, non so come fanno a resistere qui dentro, forse secondo la razza di questi animali, so ho sentito dire che corrono anche in fretta e soprattutto mi è partita la gioia di vedere un uovo di struzzo dal vivo, com'è bella l'anatomia degli animali, com'è bello, ciao struzzo, ciao, da questo youtube di Aldo Mas però.